Oggi si parla tanto di democrazia partecipata, ma a quanto pare a Lentini si va contro tendenza. Ne parliamo con il preside, professor Giuseppe Moncata. Sì, in pratica sono rimasto meravigliato che il comune di Lentini, c'è stata la prima commissione consigliare che ha proposto di modificare la presentazione di istanze e petizioni da 50 a 100 firme e quella per le delibere da 200 a 400. Questa decisione è stata presa dopo che noi del Movimento Civo Colcobaleno e del Renovamento per il territorio avevamo presentato una proposta di delibera per la riduzione delle spese del comune. Avevamo proposto che i consiglieri comunali si giudicessero della metà i loro monumenti e che facessero al massimo due commissioni al mese. E come tutta risposta in pratica si aumenta il numero delle presenze. Questo che cosa significa? Significa che non si vuole assolutamente che i cittadini prendano in considerazione ciò che i consiglieri fanno. E mi meraviglia che in pratica c'è stato il consigliere Merisola che nel dibattito che c'è fu in consiglio comunale sulla nostra proposta disse che nessuno pensi che noi siamo qui per prendere soldi. Ma la dimostrazione sta nel fatto che loro ogni mese, io ho tutte le delibere, ogni mese fanno da 25 a 50 riunioni di commissioni al mese prendendo alla bellezza di 700-800 euro nette al mese e soprattutto i consiglieri della prima commissione sono quelli che hanno la maggiore presenza. A settembre questa delibera dovrà essere approvata dal consiglio comunale? Tenuto conto di quello che è successo nella seduta precedente con molta probabilità il consiglio comunale l'approverà. Ecco allora l'ampello mio è quello che i cittadini dovrebbero finalmente smettere di rivolgersi ai politici agli funzionari con atteggiamento sottomessivo di chiedere favore dovrebbero semplicemente chiedere i loro diritti far rispettare i loro diritti e noi siamo qui a vigilare e siamo presenti il movimento civico al capoleno di Lentini sarà presente per verificare che ciò non accada. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!